L'atleta dell'ASD Milone Siracusa, Giussi Parolino, con 29 metri e 92, porta a casa l'ennesimo primo posto nel lancio del giovellotto femminile. La gara si è svolta il 10 e l'11 luglio al Campo Scuola Pippo di Natale di Siracusa ed era la quinta manifestazione open di atletica leggera organizzata dall'ASD Milone. Ottima dunque l'organizzazione delle due giornate caratterizzate da forte caldo con punte di oltre 40 gradi che ha visto in campo tanti bravi atleti provenienti da tutta la Sicilia. Adesso, dichiara Giussi Parolino, guardiamo alle competizioni di settembre.